Si tratta di un intervento di sommorgenza che l'amministrazione ha dovuto celermente attuare, mettere in piedi e organizzare per andare a ovviare a una problematica che a causa delle bombe d'acqua che oggi si presentano ha acuito su quel tratto di strada, o meglio, su un'area che è adiacente alla strada, all'abilitabilità pubblica. Sono interessate le giardine degli accessi a delle case, a delle aree e zone private siamo dovuti intervenire appunto perché il fosso di Pernina che va dalla zona della Coppa per capirsi a Valle verso Ciuffenna, in quel tratto si è avallato. La vecchia struttura che ormai ha più di 30 anni ha ceduto e ha creato un problema che per fortuna adesso è limitato e di poco conto, anche se può creare, se non si interviene e come abbiamo fatto, come l'ufficio ha fatto in maniera tempestiva può creare problemi anche sulla sede viaria che appunto, dicevo, è lì vicino adiacente. È un intervento ancorché minimale ma di un'importante somma che si è dovuta stanziare, circa 50.000 euro. La ditta individuata era una ditta della zona di Castelfranco Prendisco, la ditta Stellucci che era una tra le prime che era pronta e disponibile a poter intervenire. Abbiamo dovuto anche fare un passaggio in Consiglio Munale perché per reperire e impiegare queste somme velocemente abbiamo dovuto, come dire, aprire un debito fuori bilancio proprio perché non erano preventivate e quindi niente, oggi siamo lì operativi in attesa che arrivi il materiale ordinato. Abbiamo intanto già delimitato e messo in sicurezza l'area e nei prossimi giorni completeremo i lavori.